Domenica 21 maggio alle 18 presso la discoteca Madame Sissi Ex Art Club si terrà il Frozen Moon, il primo talent show della bellezza organizzato da Hokel School Academy e presentato oggi 15 maggio a Palazzo Loggia. L'obiettivo è quello di far emergere la creatività degli studenti del secondo, terzo e quarto anno e dei professionisti ex alunni della scuola. I migliori verranno premiati da una giuria tecnica, giornalistica e la giuria professori, opinion leader, ospiti del panorama musicale e make-up artist, conduttrice dell'evento la bresciana Giusy Legrenzi. Un'attenzione alla solidarietà adotte che contraddistingue la Hokel School Academy ed in particolare per i giovani. Infatti il ricavato della serata verrà interamente devoluto alla fondazione EMA Pesciolino Rosso, che si occupa dello sviluppo di progetti innovativi per i giovani e di sensibilizzarli sulla pericolosità dell'utilizzo di sostanze stupefacenti. Esattamente, la grande serata si svolgerà domenica 21 maggio alle ore 18 alla discoteca Madame Sissi di Desenzano del Garda, una serata in cui prevalgono creatività e sensibilità. Vogliamo assolutamente far emergere le creatività dei nostri studenti e dei professionisti che si esibiranno sul palcoscenico e sensibilità perché sarà una serata totalmente devoluta alla fondazione EMA Pesciolino Rosso. Esattamente, ci saranno dei giudici che valuteranno i total look che i professionisti e gli studenti faranno vedere sul palco, quindi l'esibizione, dei giudici tecnici, quindi dell'area del beauty, dell'air, della moda e ovviamente del benessere e dei giudici giornalisti che saranno ovviamente neutrali e dovranno valutare semplicemente lo stupore e la bellezza di questa iniziativa. Sì, dei premi importanti sia per quanto riguarda gli studenti che per quanto riguarda i professionisti. Per gli studenti sono dei riconoscimenti sotto forma di contributo economico, quindi borsa di studio, oppure dei prodotti e del materiale di lavoro. Mentre per i professionisti sono in paglio, oltre al contributo economico e ai macchinari e quindi dei prodotti per l'estetica o per l'acconciatura, anche dei viaggi di formazione in Italia e all'estero. In particolare tre giorni di formazione a Roma per i secondi classificati e un viaggio di formazione in Cina per otto giorni e sette notti. Quindi sì, sicuramente dei premi importanti per i nostri vincitori. Si hanno molta voglia di imparare e di fare, infatti questo talent è proprio stato voluto e nato per dare un'opportunità ai ragazzi giovani e soprattutto perché ci tenevo in particolar modo che passasse un messaggio positivo nei giovani. Personalmente noi come scuola crediamo tantissimo nei ragazzi giovani, dobbiamo aiutarli in questo percorso di vita professionale che è poi il motivo dell'Ok Life Academy per cui abbiamo creato questo talent, proprio perché vogliamo dimostrare e far vedere alle persone che insomma i giovani non sono proprio tutti così malvagi come oggi si sente. Perché è vero, sì, ok, ci sono dei ragazzi che non saranno il massimo, però c'è anche una buona fetta di bravissimi ragazzi, di bravissime famiglie dietro questi ragazzi, di voglia di lavorare, di voglia di affermarsi, di voglia di entrare nel mondo del lavoro e trovo giusto lanciare finalmente un messaggio positivo perché veramente non se ne può più di questi messaggi negativi. E quindi questa cosa qui l'abbiamo voluta veramente fortemente perché passasse questo messaggio ripetitivo, scusatemi però.